Una Castelvetrano blindatissima, nessun passaggio attraverso il paese e nessuna cerimonia pubblica, come di consueto in questi casi e come deciso dalla Questura e dalla Prefettura di Trapani. Il feretro dell'ex superlatitante, l'ultimo dell'ala stragista dei Corlionesi, partito ieri dall'Aquila e scortato dalla polizia, è giunto attorno alle 8.15 nel cimitero di Castelvetrano. Ad attenderlo un pugno di familiari, le sorelle Bice e Giovanna, il fratello Salvatore, con un mazzo di fiori gialli in mano, la nipote illegale del boss, Lorenza Guttadauro, e la figlia, Lorenza Alagna, che di recente ha chiesto di poter acquisire il cognome del padre. Il carro funebre, seguito da alcune auto, è entrato all'interno del cimitero, poi i cancelli sono stati chiusi. Messina Denaro è stato sepolto accanto al padre, Francesco, morto da latitante. Le indagini proseguono anche dopo la sua morte. Si cercano ancora i complici, che hanno coperto per 30 anni la sua latitanza, si cerca di scavare tra i segreti del padrino, molti dei quali sono stati sepolti con lui.